La liturgia della Messa di questa domenica è un invito alla speranza a confidare pienamente nel Signore. In un momento di grande oscurità politica, sociale e religiosa, il profeta Isaia alza la sua voce per portare conforto al popolo eletto ed annunciare il gioioso ritorno dalla schiavitù alla patria. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. E il profeta annuncia prodigi che si compiranno pienamente con la venuta del Messia. E in effetti con la venuta di Cristo l'uomo, stanco o ferito a causa del peccato e delle vicende umane, ritrova speranza, felicità e vita. Non a caso il Vangelo della Messa ci presenti il miracolo della guarigione di un sordo muto. Il Signore su questa persona compie quattro azioni. La prima lo porta in disparte. La seconda gli pone le dita nelle orecchie. La terza gli tocca la lingua con la saliva. La quarta alza gli occhi verso il cielo e pronuncia una parola, effatà, cioè apriti. Chi opera la guarigione del sordo muto è Gesù, tuttavia egli ha voluto, come in altre circostanze, servirsi di cose materiali, sensibili e visibili. I miracoli di Gesù si ripetono, hanno una loro attualità che continua anche per noi oggi attraverso i sacramenti. Infatti la Chiesa fin dai primi secoli della sua storia ripete gli stessi gesti compiuti da Cristo sul battezzato, accompagnandoli con queste parole. Il Signore Gesù che feci udire i sordi e parlare i muti ti concede di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede. Con il battesimo lo Spirito Santo libera l'uomo dal peccato e gli dona la capacità di ascoltare la parola di Dio e di proclamare l'amore infinito del Signore. Il Signore dunque ancora oggi parla, opera e ci salva. Parla attraverso la Sacra Scrittura che è veramente sua parola. Agisce e ci salva attraverso i sacramenti i quali sono voluti dal Signore perché la redenzione da Lui operata possa raggiungere tutti gli uomini in modo semplice e accessibile. Infatti in questi sette segni efficaci della grazia l'uomo incontra Gesù, la fonte di ogni bene che rinnova la nostra vita. Nei sacramenti ha scritto un autore, Gesù ci parla, ci perdona, ci fortifica, ci dà il bacio della riconciliazione dell'amicizia, ci conferì i suoi stessi meriti e il suo potere ci dà tutto se stesso. In me dunque si rende presente, grazie ai sacramenti, la vita divina perché Cristo possa vivere in me e io in Lui. Si tratta di un mistero che nessun ragionamento umano riesce a risolvere. Tuttavia è necessario che ci diventi ogni giorno più familiare fino al giorno in cui ci verrà pienamente rivelato nella venuta gloriosa di Cristo alla fine dei tempi. Come scrive l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Buona domenica.